mai sottovalutare il fiuto dei carabinieri lo sanno bene tre giovani marocchini tra i 20 e 28 anni che sono stati arrestati durante un'operazione antidroga che si è conclusa nelle prime ore di questa mattina tutto è cominciato quando una pattuglia in borghese che stava effettuando un normale controllo del territorio a pesaro ha riconosciuto un soggetto marocchino residente in provincia di rimini fermato circa un mese fa per possesso di cocaina era la guida di una fiat punto che non era la sua usata probabilmente per non andare nell'occhio e in compagnia di un secondo marocchino i militari hanno capito che forse era meglio cercare di capire quali fossero le intenzioni dei due invece di bloccarli subito hanno iniziato un pedinamento durato circa due ore e terminato nei pressi di una palazzina a monte ciccardo dove nel frattempo è arrivata una seconda auto civetta che ha bloccato la via d'uscita i militari hanno aspettato ancora poi a un certo punto dalla palazzina è uscito un terzo soggetto marocchino che ha iniziato una sorta di trattativa fino a quando c'è stato lo scambo vero e proprio dello stupefacente a quel punto i carabinieri sono entrati in azione e hanno recuperato cinque panetti di hashish da circa 100 grammi l'uno marcati con la sigla luis valore commerciale circa 7 mila euro malgrado i tre avessero tentato di nasconderli sotto l'automobile a quel punto i militari hanno anche perquisito l'appartamento del terzo marocchino di monte ciccardo destinatario del pacco di stupefacente e hanno ritrovato altri 200 grammi circa di stupefacente divisi in due panetti uno più piccolo nascosto sotto al materasso l'altro più pesante occultato dentro un buco scavato all'interno del materasso stesso i tre sono stati immediatamente arrestati sono stati sequestrati 450 euro ritenuti provento dello spaccio e poi i marocchini sono stati trasferiti al penitenziario di villa fastigi in attesa della convalida dell'arresto quindi tra le due perquisizioni il quantitativo è quasi 600 grammi di hashish per un valore di mercato che si aggira sui 7 mila 8 mila euro poi ovviamente la sostanza dovrà essere accuratamente analizzata dal nostro laboratorio e solo in questo modo potremo vedere esattamente la qualità della sostanza dell'hashish e il principio attivo quindi noi siamo molto orgogliosi e contenti di questo risultato perché sappiamo che queste attività delituose vengono compiute nella nostra provincia nel nostro territorio nella città più grande che pesero ma anche in posti minori l'intera operazione è stata coordinata dal capitano massimiliano iori comandante del norm e dal luogo tenente francesco paragallo comandante dell'aliquota radiomobile che hanno dato subito concretezza alle recenti disposizioni del prefetto carla cincarilli in merito al contrasto del traffico di stupefacenti i controlli sono ormai strutturati da parte di tutte le forze di polizia sul territorio provinciale è ovvio che specie in questo periodo di festività ovviamente c'è un maggiore rafforzamento in generale e in particolare per l'attività antidroga a Grazie a tutti